Scusa ma la tavoletta del water si è rotta? No E come mai non c'è? Perché l'ho tolta Hai tolto la tavoletta E io dove la faccio la pipì ora? Appunto Sono tornata Senti ma questi addebiti sulla carta di credito di stamani ne sai qualcosa te? Sì sì ho fatto un po' di regalini Regalino? A chi? Alla donna che ci fa la spesa Alla donna che ci fa le pulizie Alla donna che viene a stirare Ma noi non le abbiamo mica queste persone Ah no? E io chi sono? E questo? E questo è il premio che ci hanno dato per Youtube no? Lo so ma dico perché lo hai appeso accanto alla foto del nostro matrimonio? Secondo te? Ah ho capito perché sono due nostri traguardi importanti No in realtà l'ho fatto per ricordarmi una grande lezione di vita Una lezione? Eh sì perché li guardo entrambi e penso che quando nella vita tutte le cose vanno male C'è sempre una speranza